La crisi della BB è preoccupante perché vediamo ancora una volta una realtà produttiva che decide di spostare fuori dai confini nazionali la produzione e questo ha un impatto diretto in termini di occupazione in un momento difficilissimo come quello che stiamo vivendo, non soltanto sul piano sanitario ma anche sul piano economico e sociale. Per cui è fondamentale che tutti dalla regione al governo si muovano per cercare una soluzione e per spingere i proprietari della società e dell'azienda a riconsiderare questa scelta. Non esistono colori e bandiere su temi come questo, esiste soltanto la necessità di fare fronte comune per far riconsiderare questa decisione e per garantire il posto di lavoro a tantissime persone che rischiano di trovarsi senza un impiego a breve.